Bene signori, abbiamo ricevuto dal Giappone la lista delle carte di Dimension of Chaos. Ora non ci resta altro da fare che stabilire la rarità delle carte in TCG. Idee? Oh, ho un'idea! Mi dica, signor Presidente. Mettiamo la rarità delle carte dei nuovi archetipi non inferiore alla super rara. Ma dai! E già che ci siamo, mettiamo le carte indispensabili all'archetipo come Secret Rare. Prendiamolo a caso! Blackstone of Legends! Sì scusi, però quel mazzo non è che abbia fatto questa gran cosa in OCG, non avrebbe senso. Tu sei per caso il Presidente di Konami TCC? No, ma... E allora stai in zitto, e ci do io! E mettiamo Secret Rare a tutte quelle che coi! A che però scusi, così i giocatori non compreranno la nuova espansione. Tu sei per caso un Presidente di Konami? Devo ripetermi! No, signore, ma non pensa che i giocatori si potrebbero arrabbiare con noi? Sei licenziato! Ma... ma come? Ti ho pensaci tu! Mi piace! ? Grazie a tutti. Grazie a tutti.